Buon pomeriggio a tutti, sono Giuseppe Roccasalvo, mi vedete qui in basso sulla destra, vi saluto Faccio questo breve video per spiegare un po' il nostro sito web e le attività gratuite che vengono svolte settimanalmente Allora, accediamo subito al nostro sito, quindi www.visionforex.info e andiamo ad accedere a quella che è la nostra home page Quali sono le attività che settimanalmente, a scopo di dattiche formative e in modo del tutto gratuito, la nostra community offre ai utenti del web che ci seguono? Sono tendenzialmente due, un appuntamento è il mercoledì alle ore 9 con una sessione didattica di Trading Live Un secondo appuntamento è la domenica alle ore 21.30 con l'analisi flash dei mercati finanziari La domanda che ognuno di voi si può porre, insomma, accedendo al sito web è in che modo io posso partecipare alle attività che vengono svolte dalla community È molto molto semplice, se non siete degli utenti registrati, in questo caso ho già effettuato il login Ma qualora non foste registrati, in alto qui sulla destra trovate o login o registrati E quindi potete registrarvi, insomma, al nostro sito web Per partecipare è molto semplice O dalla pagina chiamata Trading Room Ovviamente per i registrati possono accedere tranquillamente in maniera del tutto free Trovate il primo clicca qui che vi riporta alla Trading Room Quindi facendo appunto un'attività di Trading in tempo reale si parla della sessione del mercoledì mattina delle ore 9 Differentemente invece accede all'analisi dei mercati finanziari curata insomma dai colleghi Questa si tratta appunto della pagina che vi riporta, cliccando qui, all'analisi di questa sera che è una domenica Quindi al di là di questo, accedendo all'home page del tutto Abbiamo cercato di rendere la cosa ancora più semplice Abbiamo realizzato un calendario dove i pallini rossi, blu o comunque i pallini all'interno del calendario Indicano delle attività nella giornata indicata Quindi che significa? Mercoledì 9 vedete Trading Room in compagnia del team Vision Forex con l'orario Oggi che è una domenica, 13 novembre Troviamo alle ore 21.30 l'analisi flash dei mercati finanziari La domanda semplice che io vi posso porre è ok, ma in che modo partecipo? Molto semplice Io vado a cliccare quindi sul 13 novembre che c'è un pallino blu, quindi c'è un'attività in corso Vedo che l'attività è alle 21.30 Quindi se voglio partecipare, clicco su analisi dei mercati finanziari una prima volta E mi si apre una schermata di colore blu Riclicco sullo stesso link e vengo dirottato Qualora sono registrato o effettuato il login al sito web Nella pagina dell'analisi flash dei mercati finanziari Dove trovo una diretta video che mi dà un countdown di 4 ore e 3 minuti circa E al di sotto trovo anche una chat che mi permette di interagire in tempo reale con gli utenti collegati al live Ovviamente non è obbligatore, quindi io posso decidere se effettuare il login Pulsando il login alla chat oppure essere semplicemente uno spettatore che si guarda l'analisi in tempo reale Io spero di essere stato abbastanza chiaro Vi ringrazio per l'attenzione Vi auguro una buona domenica, visto che oggi è domenica Se volete partecipare questa sera siete benvenuti E soprattutto un buon trading per coloro che faranno trading a partire dalla nuova settimana Ciao a tutti, grazie per l'attenzione Grazie Grazie